Musica Erano circa 50.000 i fedeli presenti in una piazza San Pietro addobbata a festa per la Santa Messa di canonizzazione dei beati Giovanni Battista Scalabrini e Artemide Zatti Papa Francesco nell'Omelia si è soffermato su due aspetti camminare insieme e ringraziare lo ha fatto commentando il brano del Vangelo di Luca che racconta la guarigione di dieci lebrosi e del ringraziamento che si leva dal Samaritano non esiste nessuna distinzione ha sottolineato il Pontefice tra lui considerato un eretico dagli ebrei e gli altri nove i malati di Lebra camminano insieme manifestando il loro grido nei confronti di una società che li esclude ho paura è il timore espresso dal Santo Padre quando vedo comunità cristiane che dividono il mondo in buoni e cattivi a braccio Francesco ha quindi espresso un pensiero dal retrogusto amaro sui migranti e oggi nel giorno in che Scalabrini diventa santo vorrei pensare ai migranti è scandalosa l'esclusione dai migranti anzi l'esclusione dai migranti è criminale li fa morire davanti a noi e così oggi abbiamo un Mediterraneo che è il cimitero più grande del mondo l'esclusione dai migranti è schifosa è peccaminosa è criminale non aprire le porte a chi ha bisogno no non li escludiamo li mandiamo via ai lager dove sono sfruttati venduti come schiavi fratelli e sorelle oggi pensiamo ai nostri migranti quelli che muoiono e quelli che sono capaci di entrare li riceviamo come fratelli o li sfruttiamo nell'ultima parte dell'Omelia il Papa ha ricordato alcuni tratti dei due nuovi Santi il Vescovo Scalabrini che fondò la congregazione per cura dei migranti due una maschile e una femminile affermava che nel comune camminare di coloro che emigrano non bisogna vedere solo problemi ma anche un disegno della provvidenza c'è una migrazione in questo momento qui in Europa soprattutto che ci fa soffrire tanto ci muove a aprire il cuore la migrazione degli ucraini che fuori dalla guerra non dimentichiamo oggi la martoriata ucraina Scalabrine guardava oltre guardava avanti verso un mondo di una chiesa senza barriere senza straniere infine il pensiero di Francesco è andato a San Artemide Zatti coadiutore salesiano in Argentina che donò la sua vita al servizio dei malati il fratello salesiano Artemide Zatti con la sua bicicletta è stato un esempio vivente di gratitudine guarito dalla tuberculosis dedicò tutta la vita a gratificare gli altri a curare gli infermi con amore e tenerezza si racconta di averlo visto caricarsi sulle spalle il coppo morto di uno dei suoi ammalati pieno di gratitudine per quanto aveva ricevuto vuole dire il suo grazie facendosi carico delle ferite delle altre al termine della messa celebrata sul sagrato di piazza San Pietro prima della recita della preghiera dell'Angelus Francesco ha ringraziato i fedeli giunti a Roma per la canonizzazione di Giovanni Battista Scalabrini e Artemide Zatti il Papa si è soffermato anche sulla beatificazione di Maria Costanza Panas monaca Clarissa innalzata agli onori degli altari nella giornata di domenica a Fabriano nelle Marche accoglieva quanti bussavano al monastero infondendo in tutti serenità e fiducia negli ultimi anni gravemente inferma offrì le sue sofferenze per il concilio Vaticano II di cui ricorre dopo domani il sessantesimo di apertura la beata Maria Costanza ci aiuti ad essere sempre fiduciosi in Dio e accoglienti verso il prossimo il pontefice continuando a parlare del sessantesimo anniversario del concilio Vaticano II ha fatto riferimento al rischio di una guerra nucleare a proposito dell'inizio del concilio 60 anni fa non possiamo dimenticare il pericolo di guerra nucleare che proprio allora minacciava il mondo perché non imparare dalla storia anche in quel momento c'erano conflitti e grandi tensioni ma si scelse la via pacifica Francesco ha voluto anche esprimere una preghiera per le 174 vittime che hanno perso la vita negli scontri avvenuti presso lo stadio di Malang in Thailandia assicuro la mia preghiera per le vittime del folle atto di violenza folle avvenuto tre giorni fa in Thailandia con commozione affido al padre della vita in particolare i piccoli bambini e le loro famiglie Papa Francesco ha ricevuto in udienza i pellegrini della famiglia scalabriniana all'indomani della canonizzazione di Giovanni Battista Scalabrini il vescovo che si dedicò all'assistenza materiale e spirituale degli emigranti Anche oggi le emigrazioni costituiscono una sfida molto importante e si mettono in evidenza l'impellente necessità di anteporre la fraternità al rifiuto la solidarietà all'indifferenza Una chiamata ha detto Francesco che riguarda tutti i battezzati per vivere e diffondere la cultura dell'incontro Questa ha aggiunto è un'esperienza arricchente che rivela la bellezza della diversità Ed è anche feconda perché la fede la speranza e la tenacia dei migranti possono essere esempio e disprone per quanti vogliono impegnarsi a costruire un mondo di pace e di benessere per tutti e perché sia per tutti voi lo sapete bene bisogna partire dagli ultimi se non si parte dagli ultimi non è per tutti Tutto questo si riflette nell'insegnamento di Monsignor Scalabrini il padre di tutti i migranti occorre essere al loro servizio ha proseguito il Papa nella convinzione che in ognuno di loro incontriamo Gesù E questo vi aiuta ad avere lo stile di una gratuità generosa a non risparmiare risorse fisiche ed economiche per promuovere i migranti in materia integrale e vi aiuta anche a lavorare in comunione di intenti come famiglia uniti nella diversità Da qui l'auspicio del Santo Padre manifestato in conclusione dell'incontro Cari fratelli e sorelle la santità di Giovanni Battista Scalabrini ci contagi il desiderio di essere santi ciascuno in modo originale unico come ci ha fatto ci vuole l'infinita fantasia di Dio in vista della canonizzazione di Artemi Dezzatti il Papa ha ricevuto in udienza i pellegrini salesiani giunti a Roma per l'evento che ha visto protagonista il laico professo salesiano nell'occasione Francesco ha evidenziato la missione di una vita dedicata interamente agli ultimi che si è consumata in Argentina sul finire dell'Ottocento in quel fazzoletto di terra patagonica dove scorre la vita del nostro beato è stata riscritta una pagina del Vangelo il buon samaritano ha trovato in lui cuore mani e passione anzitutto per i piccoli i poveri i peccatori gli ultimi Artemi Dezzatti era il parente di tutti i poveri ha proseguito Francesco ricordando che la sua missione si è consumata all'interno degli ospedali così un ospedale è diventato la locanda del padre segno di una chiesa che vuole essere ricca di doni di umanità e di grazia di mora di comandamento nell'amore di Dio e del fratello luogo di salute quale pegno di salvezza il papa ha raccontato che quando era provinciale dei gesuiti in Argentina affidò ad Artemi Dezzatti la richiesta al Signore di sante vocazioni alla vita consacrata laicale per la compagnia di Gesù da quando cominciamo a pregare per sua intercessione aumentarono sensibilemente i coadiutori giovani ed erano perseveranti e molto impegnati e così ho reso testimonianza di questa grazia che abbiamo ricevuto una vicenda personale che ha spinto il papa a lanciare un appello a tutti i fratelli coadiutori possiate anche voi essere sempre grati per il dono di questa chiamata che rende una peculiare testimonianza di vita consacrata e così proporla ai giovani come forma di vita evangelica al servizio dei pochi e dei poveri sempre a proposito di santità papa Francesco nella giornata di giovedì 6 ottobre ha ricevuto in udienza nella sala clementina del palazzo apostolico i partecipanti al convegno la santità oggi promosso dal dicastero delle cause dei santi nel suo discorso Francesco ha sottolineato l'importanza di scoprire la santità nel popolo di Dio la testimonianza di una condotta cristiana virtuosa vissuta nell'oggi da tanti discipoli del Signore è per tutti noi un invito a rispondere personalmente alla chiamata del Sere Santi sono dei santi